Consigliere Rabuffo, si è parlato di trasporto pubblico locale e di un rischio altissimo per i teramani di dover pagare biglietti più cari. Sì, l'incremento del costo sembra sia previsto da quanto ha detto l'assessore, proprio perché mano a mano l'appostamento che è stato messo in bilancio per gli anni 2023, 2024 e 2025 va a diminuire. È per un totale di circa 500 mila euro, ma si prevede proprio l'incremento del costo dei biglietti. Questo mi dispiace perché il primo intervento per il sociale, il primo intervento per una città sostenibile e vivibile è proprio quello di un efficientamento del trasporto pubblico locale. Questo è un problema che esiste da anni in questa città con tanti quartieri, tante frazioni che sono davvero distanti, non si riesce neanche ad arrivare per dire al carcere di Castrogno. Esiste da tanto tempo e quindi ho chiesto all'amministrazione se avessero fatto delle richieste alla Regione. Noi saremo a fianco dell'amministrazione per sostenere questo che è un interesse di Teramo, cioè incrementare i contributi dei chilometri per il trasporto pubblico locale serve a tutti i teramani e noi saremo dalla parte dell'amministrazione. Però nel contempo va previsto anche un piano serio per vedere anche di efficientare tutto e per quantificare bene le necessità di una città complessa come Teramo. Ex Assessore Maurizio Verna più volte aveva sollecitato la Regione, il sottosegretario D'Annuntis, ma non sono arrivate risposte. Abbiamo speranze con Alberto Bis? Anch'io a suo tempo lo feci, però siamo all'inizio di una consigliatura e quindi non dobbiamo pensare al passato, pensiamo a quello che possiamo fare ora e quindi sostenere la richiesta e darci da fare per trovare una soluzione è fondamentale.